ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video ci tenevo molto a parlare di questo argomento perché si parla di quello che è la mia passione ovvero la formula 1 io che ho sempre detto che in formula 1 voglia di competizione voglia di vedere gare accese fino all'ultimo poi è chiaro che non devono esserla per forza tutte però almeno un po di sostanza deve esserci ed è quello che secondo me è accaduto nell'ultimo weekend a Imola perché fino all'ultimo giro è stata una gara comunque dove il risultato non era scontato e su questo non ho dubbi poi è chiaro che magari se anche Norris fosse riuscito a prendere Verstappen alla fine Max si sarebbe difeso come al suo solito però almeno c'è stata non dico battaglia però c'è stata comunque tensione fino all'ultimo anche perché erano due anni ormai che una gara di formula 1 non terminava con il primo e il secondo distanziati da meno di un secondo quindi è un qualcosa che sinceramente a me è emozionato vero che molti hanno detto che è stata una gara noiosa senza sorpassi senza bagarre lì davanti però a me è bastato soltanto guardare il momento in cui sono arrivati sul traguardo arrivo in volata che è uno di quei momenti che a me piace sinceramente quindi secondo me questa per la formula 1 è una buona notizia ora dire che d'ora in poi le gare saranno così la vedo complicata però volevo appunto parlarne in questo video per esprimere una mia opinione allora innanzitutto tutto questo è dovuto al fatto che le altre squadre sono riuscite ad avvicinarsi alla Red Bull in particolare McLaren e Ferrari soprattutto McLaren che dopo le prime gare era nettamente terza forza dietro alla Ferrari poi grazie al pacchetto portato a Miami sono riusciti non solo a vincere la gara di Miami ma addirittura a giocarsela sia per la pole che per la gara a Imola quindi questo per McLaren è già un qualcosa di eccezionale poi ripeto una cosa per me fondamentale a me che ci sia Ferrari o no interessa relativamente a me basta soltanto guardare una gara di formula 1 in cui c'è battaglia che a me basta e avanza poi è chiaro che io come sempre a Ferrari tengo e spero davvero sempre che faccia il meglio però in questo weekend la vera antagonista di Red Bull di Max in particolare come ho già detto anche nel post di Imola è stata ovviamente la McLaren e in particolare l'anno Norris quindi una McLaren che è davvero cresciuta tanto ha stupito persino me perché io pensavo che con gli aggiornamenti Ferrari si tornasse più o meno la situazione che c'era prima di Miami ovvero con Ferrari seconda forza con McLaren comunque attaccata invece no pare proprio che gli aggiornamenti di McLaren abbiano veramente giovato ma questa macchina che ora non dico che sia seconda forza perché è ancora troppo presto per dirlo però quel che è certo è che se la può giocare se la può giocare non so se alla pari o meno però può battagliare con Verstappen tra l'altro ripeto una cosa che ho fatto anche ho detto anche nel post di Imola in questo weekend non è stata la Red Bull a essere prima forza ma è stato Verstappen quindi se fosse stato un weekend difficile anche per Verstappen probabilmente la McLaren avrebbe stravinto e anche con gran merito però in questo weekend si è visto il vero campione quale Max adesso ovviamente tutti hanno giudicato deludenti le prestazioni di Ferrari però non sono d'accordo perché innanzitutto come ho detto anche nel post di Imola l'importante per Ferrari è non aver fatto un passo indietro per ora pare che la situazione sia stabile nel senso è lì comunque a giocarsela per il podio con la McLaren a un certo punto in gara la Ferrari era addirittura più veloce sia di Red Bull che di McLaren poi è vero che c'è stato quell'errorino di Leclerc che magari poi ha contribuito al fatto che poi Charles non avesse più ritmo però è anche vero che Ferrari in gara c'era il ritmo era buono se la poteva giocare forse un po' meglio poi magari il sorpasso non l'avrebbe fatto perché la McLaren sul dritto è molto forte però ho visto comunque una buona Ferrari si molti diranno tu vedi sempre il lato positivo ragazzi sono fatto così per quanto riguarda gli aggiornamenti io direi di aspettare so che molti tifosi Ferrari soprattutto quelli più diciamo vogliosi di vittoria non apprezzano l'attesa però secondo me per dare un senso a questi aggiornamenti bisogna aspettare le prossime gare in particolare Canada perché Monaco non è una pista rappresentativa per gli aggiornamenti però c'è da dire una cosa che a Imola c'era la McLaren che arrivava con una gara già alle spalle quindi hanno potuto già analizzare i dati su come si è comportata la macchina con gli aggiornamenti nuovi in modo di avere una base buona per assettare la macchina per la pista Ferrari invece era la prima volta che portava questo corposo aggiornamento vero che avevano già girato a Fiorano però Fiorano non è una pista di Formula 1 è una pista completamente test quindi ora penso che a Maranello analizzeranno quelle che potranno essere le alternative per gli aggiornamenti che forse non hanno ancora azzeccato mi spiego meglio probabilmente Ferrari non riesce ancora a sfruttare al massimo questi aggiornamenti vuoi per la pista vuoi per qualcos'altro però secondo me Ferrari esattamente come aveva fatto con la versione base della SF24 lo stesso farà con la versione Evo mi spiego meglio perché con la versione base siamo arrivati fino a Miami che gara dopo gara Ferrari dal punto di vista dell'assetto è riuscita a migliorare sempre di più adesso è un nuovo punto di partenza poi magari a Imola potrebbero dire la macchina era perfetta quindi non c'è altro da migliorare però secondo me è molto strano secondo me devono ancora trovare il modo per sfruttare al meglio questi aggiornamenti anche se alla fine tutto questo non è che ha garantito a risolvere quel problema che ormai è diventato il punto debole dobbiamo dire della SF24 di quest'anno che è il problema del primo settore praticamente su ogni pista cambia non cambia la pista nel primo settore Ferrari ha sempre fatto fatica ed è un problema che sinceramente non riesco a comprendere perché credo di non aver mai visto una cosa simile poi c'è stato anche Leclerc che dopo la gara ha detto McLaren e Red Bull utilizzano l'ibrido nel primo settore in un modo particolare cosa che non mi aspettavo poi non so se è vero o no se era una scusa di Charles o se era dovuta a qualcos'altro però quel che è certo è che la Ferrari deve trovare il modo di sistemare questo primo settore soprattutto per la qualifica perché anche in gara era evidente quanto perdesse nel primo settore ma deve cercare di risolverlo in vista delle prossime gare soprattutto Monaco dove la qualifica è determinante. Tornando all'argomento di questo video sul fatto che forse Imola potrebbe essere la svolta per vedere una Formula 1 più accesa più competitiva secondo me è troppo presto per dirlo direi che se dovessimo già vedere due gare consecutive magari a Monaco non succederà perché a Monaco sarà un weekend particolare però dovessimo cominciare scusate ho deglutito un attimo se dovessimo vedere due gare consecutive che si concludono magari non per forza involata come Imola però almeno che possano essere un po' più diciamo un po' più di competizione direi che la svolta c'è. Non ci sono dubbi sul fatto che McLaren e Ferrari si siano avvicinate Red Bull ovviamente resta la favorita, resta la prima squadra senza ombra di dubbio però nulla mi toglie dalla testa il fatto che McLaren e Ferrari si siano avvicinate per il Mondiale lasciamo perdere perché finché non si vedrà una Red Bull veramente in crisi il Mondiale scordiamocelo proprio non parlo solo da Ferrarista ma anche da McLaren e quindi quel che conta adesso è vedere gara per gara come si sviluppa questa lotta a tre tra Red Bull, Ferrari e McLaren poi ripeto in questo weekend la lotta è stata più con Verstappen che con la Red Bull però vedremo perché comunque anche Red Bull non resterà a guardare già in questo weekend aveva portato qualcosina che alla fine non ha funzionato e questo è importante non hanno funzionato ovviamente per gli aggiornamenti Ferrari bisognerà vedere le prossime gare soprattutto il Canada poi è chiaro che se ci arriverà a un certo punto che Ferrari non tornerà a essere seconda forza bisogna allodare McLaren che ha fatto veramente un lavoro fantastico e Ferrari di trovare una soluzione tant'è che ho già visto delle indiscrizioni sul fatto che forse arriverà un altro aggiornamento a Silverstone secondo me questa è una cosa inventata dalla stampa perché non può essere che hai appena portato un aggiornamento e già hai pronto per il prossimo cioè aspettiamo di vedere adesso come vanno questi e poi il resto si vedrà quindi vedremo, io come al solito spero di vedere una Formula 1 sempre più aperta, più accesa già all'inizio di quest'anno avevo detto dopo il Bahrain che avevo la sensazione che quest'anno sarebbe stato diverso, che ci sarebbe stata più competizione finora effettivamente è stato così e speriamo di vedere non solo più gare aperte ma soprattutto tanti piloti che possano sfruttare la loro occasione prima o poi quindi questo è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito in questo contenuto e ci rivediamo alla prossima, ciao a presto